ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo vlogmas dopo la mezza delusione di meduno oltre ad aver trovato una fonte luminosa che mi illumini decentemente in modo che possiate vedere il mio bel faccione con mascherina annessa che ho abbassato per l'occasione anzi facciamo così così non si nota più di tanto ho anche deciso di giocare in casa e andare sul sicuro e quindi siamo a spilimbergo dove non c'è una vera e propria rassegna ma soltanto alcuni presepi che meritano una visita o comunque di dargli un'occhiata il primo che vedete in una ripresa qui è quello che c'è nella piazzetta della posta piazza borgo lucido ed è più o meno sempre uguale oggi quest'anno è un pochino più illuminato e decisamente è carino da vedere il secondo invece in pieno centro è il presepe in santa cecilia creato appunto all'interno della chiesetta che si trova alle spalle del duomo dietro al duomo cambia tema ogni anno ed è sempre interessante e molto bello da vedere l'ultimo il terzo è quello che dal titolo a questo video è appunto essendo spilimbergo la città del mosaico non poteva che avere un presepe in mosaico che è stato appunto installato in piazza duomo negli ultimi anni appunto è cominciata questa tradizione chiamiamola così è un'opera ovviamente unica nel suo genere e con grande impatto scenografico visto che comunque occupa tutta occupa tutta la piazza ed è anche sicuramente ben illuminato devo dire ogni anno peraltro vengono aggiunti dei pezzi chiamiamoli così per cui si è partiti con soltanto la rappresentazione della sacra famiglia che è posizionata un po sopraelevata in sopra quello che dovrebbe essere il pozzo e nel corso degli anni sono stati aggiunti tre angeli e poi altre figure quest'anno mi pare che sia appunto stato giusto sono state aggiunte delle figure che rappresentano i popoli della terra comunque sia è tutto assolutamente spiegato all'inter in un pannello che appunto è antistante al presepe piccola curiosità maria sembra che sia sbagliata quindi girata al contrario ma in realtà è una cosa fatta apposta perché il volto è verso il duomo in quanto è dedicato a lei appunto il duomo è quello di santa maria maggiore ragazzi spero che il video vi sia piaciuto nel caso lasciate un bel like e commentate se siete già passati da spilimbergo a vedere questi tre presepi che appunto vi ho mostrato se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video che arriveranno appunto che riguardano presepi e rassegne di presepi in giro per il friuli vi ricordo anche che qua sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social in cui seguirmi in diretta nelle mie avventure detto questo io vi saluto come al solito vi do appuntamento alla prossima settimana e al prossimo video e vi dico come sempre heaven ice life grazie a tutti